Amici di Fanner, affassionati delle grandi, calcio a 5 nazionale, l'attesa è finita, uno dei match più attesi di quest'anno per la Serie A2. Si affrontano quest'oggi al paraloggiata, Olimpulsoggiata e Puzza l'Isola. La capolista in maia arancio che si schiera con Gentile, luttano i tasti, Gelbea, Rivas, Rubei, Zoppo, Basile, Marcellinio, Mazzucca ed Iver. Per quel che riguarda invece l'Olympus, Leofreddi, Garzia, Dallemolle, Fernando Velasquez, del Ferraro, Borsato, Di Eugenio, Marchetti, Alfonso, Poul, Butnaru, Di Ponto, Medici e Di Eugenio. Tutto pronto per l'inizio del match con l'Olympus che attacca da destra verso sinistra in maia, calzocini e calzettoni in blu con inserti grigi. Risponde l'Isola da sinistra verso destra con la maia arancio, calzettoni arancio, calzocini e inserti neri. Qui tetto di dollare per l'Olympus con Leofreddi, Del Ferraro, Osni, Garzia, Beto e Velasquez. Per quel che riguarda invece il Fuzz all'Isola abbiamo Emer, Papu, Marcellinio, Mentasti e in Porta Basile. Si trascina il primo pallone fuori, Beto. C'è quindi la rimessa laterale in favore del Fuzz all'Isola di Ciccio Angelini. Grande pubblico che sta oggi alla pala olgiata. Un evento davvero probabilmente tra i più belli, se non il più bello in assoluto per quel che riguarda la Serie A2 di quest'anno. Marcellinio, Emer, l'ex Lazio chiuso da Oscar Velasquez. I due si sono incontrati in Serie A quando uno vestiva la maglia Montesilvano, mentre l'altro invece quella della Lazio. Emer, Papu, Mentasti. Emer, un po' in difficoltà, Marcellinio con la sola, se la cava la grande. Velocizza il gioco rapidamente per Papu, Marcellinio. Del Ferraro lo chiude. Del Ferraro, Osni Garzia, Oscar Velasquez punta l'avversario per la prima volta nella partita. Cerca di superare Rodrigo Emer, è un osso duro, allora si va da Del Ferraro. Per cui il Beto, il controllo del numero 14, lo scarico per Osni Garzia. Non è da meno dal punto di vista della guardia, Marcellinio, l'ex Napoli mette una rimessa a laterale. Velasquez. Del Ferraro sbaglia il tocco. Papu, poi nuovamente Velasquez, che commette fallo, secondo l'arbitro. Marcellinio, Emer, Bentasti, Marcellinio, Papu, prova a girarsi. Da per Emer, tiro morbido, Leofreddi controlla. Anche per Leofreddi, un anno nella Lazio, poi l'arriva l'Olympus. Emer, Papu, l'ex marca, lo scarico, secco il destro da parte di Montasti. Velasquez fa buona guardia dopo il tocco di Leofreddi. Emer, Bentasti, Marcellinio, Papu. In anticipo su Del Ferraro, che non lo fa neanche girare, mette le mani poi sulle spalle dell'avversario, fa sentire la presenza del difensore alle spalle del pivò. Emer, Bentasti. La formazione di Isola Sacra, che resta in possesso del pallone, dietro la metà campo l'Olympus, che ora va in pressione con Betos, la riconquista all'Olympus. Apertura per Svelasquez, punta a Bentasti, c'è un mismatch dal punto di vista della velocità. Si ferma Velasquez e Bentasti gliela porta via e la dà per Papu. Di partenza chiede per la Svela Bentasti, un paio di rimpalli, in destra di Bentasti. Chilo fuori. Leo Freddi, Beto, De Ferraro, Velasquez, Beto, De Ferraro. Anzi, Osnigarzia, ora De Ferraro, va a murare Marzelinio. Se la mettono Papu e De Mer. De Ferraro sta per battere dopo le proteste dell'Isola. Gioca per Osnigarzia, fita di dare a Velasquez, poi si ferma da per Beto. A destra per De Ferraro, a destra per Osnigarzia, interviene Papu. Velasquez salta dopo il 6, c'è un rimpallo, Marzelinio, anche lui mette fuori con forza. Oscar Velasquez sul punto di battuta. De Mer si abbassa a cercare di coprire il campo. Ci sarà sicuramente un scarico all'indietro. Il tocco è per Beto, suolata per Velasquez, cerca sotto le gambe di Marzelinio. Il pallone, l'esperto però, numero 19. La tocca e allora altra rimessa laterale, sempre per l'Olympus. Nessuno vero squillo fino a questo momento da parte delle due squadre, se non quel tiro sull'esterno della rete diventasti. Beto, De Ferraro, Velasquez, Emer, Velasquez, scavetto dall'altra parte, in un'arrivo del Ferraro. Deve giocare mentastiche, con molta calma. Si appresta a dare il pallone a Marzelinio, in posizione di ultimo, il numero 19. Da per il laterale, che è Rodrigo Emer. Quindi nuovamente Marzelinio, laterale per Mentasti. Emer, Velasquez, Mentasti, col corpo, Basile non si fida e butta via il pallone. Tocco per il destro di Osdigazia. Ha cercato il gol dall'istanza siderale, il numero 2. Ha questi numeri l'ex Real Rieti. Mentasti. Porta la palla, poi è in posizione di Pivo. Emer, Marzelinio. Emer, Papu. Chiuso. Del Ferraro. Osdigazia. Beto. Numero 14. Dietro per Osdigazia la pressione di Marzelinio. C'è fallo, secondo il diretto di gara. È il primo del Fuzz all'Isola. Una frazione a testa per le due squadre. Partita molto bloccata in questo inizio. Di fatto ci si gioca molto. Beto, Velasquez, non è fuori secondo l'arbitro. Velasquez, ora sì. È rimessa laterale per l'Isola. Dicevamo, ci si gioca molto perché l'Olympus è a 26 punti, a meno 10 dal Fuzz all'Isola. L'Isola invece è a 36 ed è la leader di questa classifica di serie A2. A2, girone B, Papu. Marzelinio, tutto a sinistro. Marzelinio! Toccato dai Merri il tiro. Marzelinio, controllo e dribbling su Osnigazia. Non lo contiene Osnig. Il tocco errato del numero 19. Del Ferraro, questione a tutto campo dell'Isola. Leo Freddi è costretto a lanciare per Borsato. Bel match adesso dal punto di vista fisico tra Borsato e Mentasti. Considerando che Mentasti in realtà è un anno più o meno che riesce a giocare da ultimo. Un giocatore che ha sempre fatto il pivot sin dalle categorie giovanili. E ora esce Mentasti l'esperienza di Lutta. Numero 4 anche lui, piuttosto giovane, ma che vanta numerose presenza nei campionati nazionali di Fuzz all. Marzelinio, Eimer, Lutta. Eimer, Lutta. Marzelinio. Contrallo così così di lutta. E si rifà. Marzelinio. Duello tra lui e Borsato lo supera. Marzelinio non lo tiro. Borsato lo spende. C'è fallo. Speso bene da Borsato. C'è calcio di punizione per l'isola. dal limite dell'area Leandrinho. E Borsato a coprire il primo palo. Ma Marzelinio! Marzelinio 1-0 del Fuzz all'isola. Primo acuto. Primo gol su calcio di punizione. Borsato gioca per Leandrinho. colpevole la barriera e anche e soprattutto il portiere dell'Olympus. In questo caso, Borsato. Spinge con la schiena Eimer. Lo guarda dritto negli occhi il numero 30. Eimer. Marzelinio. Ruben. Lutta. Ruben. Per Lutta. Borsato chiude senza troppi complimenti ma la partita per il momento sembra essere dell'isola da tutti i punti di vista. Eimer. Marzelinio. Eimer. Basile. Giro palla tentato. Ora Luba Leandrinho. Leandrinho angolo per l'Olympus. Time out chiamato dal tecnico Ragneri. Termina il time out. Si rientra in gioco con l'Olympus che ha un calcio d'angolo. Minuto numero 6. 28 i secondi di questo primo tempo di Olympus olgiata a Fuzza l'isola. Sta per battere Velasquez. Leandrinho al limite. Forse farà blocco. Invece entra del Ferraro. Non si fida del tiro di prima. Pensava in un tocco eventuale di Marzelinio. Allora Leofreddi lancia lungo a cercare Enrique Borsato. Si gira Borsato. Enrique Borsato. E un kill. E' in la posizione. Non sbaglia mai. Spalla la porta. Si gira. Guarda il giro dell'Olympus. Un gol fantastico di Borsato. Spalla la porta. Dal nulla. Come si dice nel gergo americano. From nowhere riesce a realizzare il gol dell'1-1. Praticamente non aveva chance se non quella di prendere l'introcio dei pali col tiro. E l'ha preso il numero 8. Mita. Sale il tifo. Rubei. Marzelinio. Si accende Marzelinio. Se ne va. Marzelinio. Salta anche l'ultimo avversario. Da. Sul secondo pollo. Felicchio da parte di Aguiliano. Se viene murato. E lancia lungo poi Leofreddi. Lutta. Emer. Lutta. Marzelinio. Basile. Rubei. Lutta. Marzelinio. Rubei. Lutta. Fa spazio Rubei col suo movimento. Nuova lutta per Rubei. Emer sale la pressione dell'Olympus. Lutta. Beto. Fallo di Beto. Rischia il giallo. Dentro di gara che ha segno numero 14 di avvicinarsi. Emer. Emer. Marcellinio si rialza è il numero 19 punta di nuovo Beto non arriva Rubei Osdugiazia Leandrinho Corigliano cerca e trova Borsato sempre lo stesso movimento stava per fare il gol fotocopia Enrico Borsato fenomeno il numero 8 per la categoria da quella posizione poi è praticamente un gioco dei ragazzi per lui e l'abbiamo visto in occasione del pari dell'1-1 realizzato dall'Olimpio Solgiata lutta Rubei se ne va Rubei Osdugiazia è più veloce di lui Osdugiazia fa valere gli anni di meno per così dire anche se lo spunto di Rubei sembrava quello di un 25enne Leandrinho Beto Borsato Zoppo riesce a non permettere all'avversario di prendere in maniera pulita il pallone Mentasti Eimer Eimer Zoppo Eimer Mentasti Eimer Zoppo supera l'avversario Zoppo Zoppo ci prova tantissimo in rendizione delle giovane dell'isola Beto a campo Beto chiede lo scambio a Dallemolle Garzia Beto Osdugiazia ci mette il piede Basile Beto Osdugiazia Leandrinho sei male Leandrinho Mancino poi fuori misura del numero 12 che ha nell'uno contro uno la sua qualità migliore Zoppo Eimer Zoppo cerca e trova Papu l'appoggio è perfetto per Zoppo e ha metto il vetro di Fensino di Leandrinho ribartezza Olympus con Nebeto che da sinistra per Dallemolle si accettra Dallemolle da studi del numero 5 sulle gambe di Montasti Osdugiazia Beto Leandrinho punta Eimer a destra poi per Dallemolle Eimer palla dentro buona per Papu poi ribartezza Olympus con Osdugiazia che dà in mezzo al campo intervento poi di Basile che tocca il tetto del palazzetto e allora Beto lo scambio Beto e il miracolo di Basile 1-2 perfetto Leandrinho Beto angolo per l'Olympus fuori per il destra di Dallemolle Eimer ma sbaglia la misura ed esce il numero 30 a stampo entra al suo posto Gustavo Arribas Delferraro Osdugiazia Beto Dallemolle Mentasti giocate dentro per Marcellino anche Leofreddi con i piedi Marcellino sulla schiena di Delferraro Marcellino 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 Intasti Marcellino Papù Leofreddi Beto Delferraro Dallemolle Scambio fortunoso che favorisce Dallemolle poi il numero bellissimo da parte di Marcellino sempre Marcellino non c'è fallo secondo il rietro di gara non protesta neanche Marcellino Mettasti ha la soluzione a ribassa all'indietro il tassi batte forte in mezzo contro Leofreddi che cerca Beto Arribas Marcellino Mettasti e poi Arribas chiede l'1-2 a Papù allontana Mettasti allontana scusate Delferraro e ora Mettasti Arribas Marcellino male il pallone del numero 19 un po' stanco forse considerando che a tutti i minuti sulle gambe si inquiffatti Marchetti Velasquez Delferraro Beto Delferraro Mettasti si accentra Mettasti ha cercato di sinistro Delferraro Beto cerca il numero qua Marchetti l'antiene in gioco Arribas attende che il pallone termini fuori che numero di Beto sotto le gambe dell'avversario completamente fuori tempo Emer Delferraro ringia su Papù Leofreddi Beto cerca di fare i metti laterali lo trova solo adesso con Marchetti che da bivosi e c'entra Velasquez Beto Arribas in maniera rude sul numero 14 non fischia il mettale l'arbitro ora Arribas se le trova tre piedi la sfera è per Mettasti che spedisce fuori Leo Freddi di testa Marzelin Borsato numero di Borsato e sta per arrivare un giallo forse non secondo l'arbitro particolare in corsa lunga Osni Garzia è un appoggio per Borsato scarico per Marchetti chiuso adesso si neutralizza così il trattativo di schermo dell'Olympus anzi ripartenza da parte del Fuzz all'Isola colpa Pucheta per Marzelin il mio Marzelin non mette in mezzo il terreno Asni Garzia che cerca a sua volta di ripartire tre controlli dell'Olympus Osni Garzia chiuso allo di Oribas secondo l'arbitro per questo del numero 8 asni Garzia Borsato Va il numero 8 Spara alto Non tasti Papù Marcellini Non tasti Putta Borsato Arribas Marchetti Osni Garzia Velasquez Marchetti Velasquez Osni Garzia Borsato Marchetti Atterrato Marchetti Non c'è fallo Marcellinio Mintasti Arribas Marcellinio Mintasti Marcellinio Gustavo Arribas Marcellinio C'è quello scambio Papù Con la sua La quindi Oscar Velasquez Sempre Velasquez Deve fare tutto solo Arribas al massimo Può dare Inermessa Laterale E allora Borsato Rischia un po' La sfera La sfera arriva comunque a Velasquez Che rischia a sua volta Mintasti Mintasti Marcellinio Si accende il numero 19 Marcellinio Metta in mezzo Un giocatore fenomenale Marcellinio Velasquez Osnigazia Parla in movimento del numero 2 Emer Marcellinio Mintasti Marcellinio Rubei Scarico per Marcellinio Battuta da solo Marcellinio Chiuse Rimessa laterale Anzi angolo Andrà a battere Andrea Rubei Tocca all'indietro per Marcellinio Largo per Mintasti Di nuovo per Marcellinio Si muove Rubei Chiede il pallone tra i piedi Il numero 10 Massimo ancora da Mintasti Rubei Sniangazia Copre col corpo Su Montasti Leo Freddi Lo stacco di Omer Oscar Velasquez A scavare Verso Borsato Non si fida del colpo al volo Di prima attenzione Sniangazia La pallonata di rigore Borsato Due volte Borsato Basile Fa sua Rilancio a lungo Esce Paolo Freddi Borsato Si sta avvicinando All'arbitro Il suo cartellino Fira a questo momento Eccolo il primo Per il rito Borsato La pallona Grazie a tutti Mentasti, Emer Mentasti Marcellino Emer Accelera Osni Garzia Il ripallo favorisce comunque il numero 30 Che scambia con Rubei Quindi Marcellino Velázquez 3 contro 2 dell'Olympus Con Velázquez che tende Beto Che arriva Beto sul secondo palo Basile e poi Velázquez due volte Il pallone resta giocabile per Beto che tira Angolo Leandrinho Mette in mezzo Leandrinho Ripartenza del Fuzz all'Isola Con Marcellino Che da destraferra Rubei Rubei Intervento di Leofreddi Fallo di Rubei su Leofreddi Va a chiedere scusa al numero 10 All'estremo difensore All'estremo difensore Rientra del Ferraro Esce Velázquez Rientra Lutta Ed esce Mentasti Beto Osni Garzia Leandrinho Osni Del Ferraro Osni Garzia Cambio passo di Osni Garzia Osni Garzia Basile copre quel centimetro sul primo palo Tanto da mettere in angolo Emer Marcellino Emer Rubei Lutta Emer Lutta Emer Messa dal fondo Beto Leandrinho Dalle molle Beto Marcellino Emer Marcellino Del Ferraro Se fa troppi complimenti La spedisce fuori Time out Fuzzar Isola Si riparte con La rimessa Laterale In favore Del Fuzzar Isola Lutta Poi Marcellino Altra rimessa Laterale Per il Fuzzar Isola 1.40 al termine 1.40 al termine Involzione Tutti messa Anche per Il Fuzzar Isola Infrazione commessa Da Lutta Leandrinho Del Ferraro Dalle molle Del Ferraro Lancia lungo Marcellino Marcellino Papu Lutta Emer Marcellino Tocco dentro per Papu Chiede palla Di ritorno Marcellino O si va solo da Emer Quindi da Lutta Poi Per il numero 19 Messo in difficoltà Lutta Beto Prova col fisico A spostarlo Esiste Lutta Quindi Emer Riva del Ferraro Ma la palla è sempre dell'Isola Che cerca Gli ultimi secondi Di pressione Con Papu Prova ad accendersi A sinistra Il numero 15 Si ferma Fa tutto col destro Col sinistro Emer Poi Il mancino Marcellino Se la porta sul destro Prova A mettere dentro Messa Anzi Angolo Per L'Isola A 28 secondi Dal fermo Emer Lutta Emer Emer Basile Lancio lungo Controllo di Lutta Così così Leofreddi Beto Scorre il tempo Del Ferraro La chiama dalle molle Ultima occasione Esce Pala al piede Emer In anticipo Ma arriva la sirena Finisce qui il primo tempo Uno a uno Tra Olympus E Giate Puzza l'Isola Tutto pronto a Ficchieri Cominci il match L'Isola Che attacca da destra Verso sinistra Con Basile Marcellino Papu Emer Ementasti Risponde da sinistra Verso destra L'Olympus Con Leofreddi Velasquez Borsato Leandrinho E Del Ferraro Uno a uno Il risultato Del primo tempo Mentasti Emer Emer Marcellino Emer Marcellino Mentasti Papu Emer Metasti Prova a girarsi Il numero 5 Prova ad accendersi Da verso Marcellino Rientra Marcellino Marcellino Spedisce fuori Leofreddi Borsato Mentasti Andate a temer Primo acuto Dell'Isola Con il numero 19 In quadrato Marcellino Emer Mentasti Emer Papu Contenuto oggi Da una grande marcatura Del Ferraro Mentasti Emer Marcellino Emer Papu Marcellino Marcellino Velazquez Un pallo Vinto Da Emer Leandrinho Velazquez Male per Leandrinho Accenno di ok Il numero 12 L'idea c'era L'intenzione è giusta Marcellino Marcellino Mentasti Papu Papu Mentasti Mentasti Velazquez Borsato Basile Lancia lungo Controllo Leofreddi Del Ferraro Borsato Leandrinho 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 Fallo Fallo Di Papu Giocato rapidamente Del Ferraro Il sinistro Leandrinho 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 Velazquez Velazquez Forte dentro Del Ferraro Marcellino Con calma Davvero Olimpica E allora Papu Intervento Di Borsato Occhio Che è il secondo Borsato Dietro di Garza Sta avvicinando Dietro di Garza Miltasti Marcellino Emer Papu Mentasti Eimer, Mentasti Del Ferraro carica il destro, quasi scivola nel colpire il pallone Mentasti Eimer, Mentasti, Isola che è a totale possesso del pallone Ma l'Olympus è molto attenta, Papù, spito da Del Ferraro Papù, visuola per Marcellinio Leo Freddi Anticipato da Mentasti, Beto Poi un nuovo lancio lungo per Leandrigno Olympus che va in tuscia quando è a campo Ora Del Ferraro, lo scarico è per Beto Di nuovo Del Ferraro Osmigazia Leandrigno, nel uno contro uno Va via De Mer Leandrigno Basile in angolo Si è fatto male Mer Si riparte dal calcio d'angolo per l'Olympus Beto, quindi Leandrigno, dentro l'area di rigore Esce fuori il numero 12 Del Ferraro Del Ferraro Beto Avviene giocabile Non secondo il secondo arbitro Lutta Arribas Marcellinio Marcellinio Arribas Marcellinio Suolata Verso il numero 19 Esce Palla al piede Leandrigno Papù Gli la soffia Due contro uno Papù per Marcellinio Stop Marcellinio Si ferma Occasione sprecata Poi Arribas E' il tocco di Emer Partita tiratissima Osnigazia Con sinistra Osnigazia Che miracolo di Basile Osnigazia Gioca per Dalle Molle Colpo di testa Ripartenza di Papù E' solo il numero 15 Beto lo spinge ingenuamente Si prende anche il giallo Erano tre contro uno Poteva evitarsela Beto Gioca per Dalle Molle Gioca per Dalle Molle Si prende anche il giallo Gioca per Dalle Molle Gioca per Dalle Molle Lancio per Dalle Molle Lutta Chiuso Rubei Sempre lutta Papu Papu Abbondantemente fuori il tiro del numero 15 Quindi Beto Cambio passo di Beto Lutta lo contiene Arribas Male per Lutta Esce Papu Entra Zoppo Osmigazia Una deviazione Basile di nuovo in angolo Beto Osmigazia Dalle Molle Del Ferraro Dalle Molle Si trasformano in tiro il tentativo di assist sul secondo palo Basile e poi Marcelinho Direttamente tra le mani Di Leofreddi Del Ferraro E' un'altra E' un'altra Un'altra La Un'altra Ma Un'altra Un'altra E' un'altra Non poteva giocarla in area, quindi Beto si inserisce, Beto si gira, scivola, Emer Velázquez, blocco su Arribas, Oscar Velázquez, punta lutta, Velázquez accelera l'utta, in scivolata, che intervento, quindi Arribas disuola, allora la figazia si lotta tremendamente, la rimessa laterale per l'Olympus. Velázquez, Beto, Garzia, Lex Rieti per Dalle Molle, era bello l'inserimento chiamato dal passaggio di Osmond Garzia. Zoppo, Basile, Velázquez, Arribas, fallo di Beto, è il numero 4 dell'Olympus. Lutta! Arribas, Rubei, lutta, c'è chi trova Rubei, Rubei! La traversa di Andrea Rubei! Dalle Molle dall'altra parte, si va da un angolo, non ha fatto quasi nulla per i pochi paloni toccati di Andrea Rubei, quando l'ha fatto ha preso la traversa. Dalle Molle, centra Beto col suo tiro. Molle, centra Beto. Mentastri, Rubei scarico per Mentastri vince il ripallo poi dalle molle Mentastri, Fogliace ci rimette le gambe Osnigazia Ciancio Lundo, colpo di testo di dalle molle, dibuzzato Lutta, Mentastri e, scusate, Marcellinio con la suola per Lutta palla di ritorno per Marcellinio Marcellinio lo chiude Leofreddi poi gioca subito il pallone Marcellinio Mentastri Lutta Rubei assist per Lutta Rubei forte dentro Osnigazia e allora dalle molle ripartenza Rubei va in chiusura Borsato a cercare di tamponare la ripartenza dell'Olympics Borsato Rubei Rubei Dalle molle Borsato 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 Basile Lutta Rubei Rubei Lutta Rubei 1-2 perfetto di Rubei Lutta quando non trova nessuno sta disegnando delle cose incredibili sul parquet Andrea Rubei dei recuperi fenomenali dei palloni semplici quanto perfetti per i suoi compagni Basile tocca in angolo ospite da Borsato che chiama lo schema Leandrinho che nel pallone Borsato gli aveva dettato il passaggio il numero 8 il numero 12 ha voluto forzare da solo Osmigazia Borsato di sola per Osmigazia a tieni il campo il numero 2 poi la sparacchia via Mentasti Osmigazia Borsato nuovamente da quella posizione ha già fatto male ottiene angolo se l'era perso Mentasti Borsato Leandrinho Osmigazia Osmigazia Forte ma comunque fuori Mentasti Marcelinho Rubai stavolta male nel controllo Del Ferraro deve buttare via il pallone interviene poi Borsato sul tentativo di giocata di Mentasti Marcellinho Papu Emer Mentasti Emer Marcellinho Papu Emer Mentasti cambio cambio di passo di Emer in due tempi lo freddi il pallone ancora giocabile per Mentasti che la mette fuori Leandrinho fa scorrere pericolosamente Borsato di tacco per Leandrinho Basile si distende super giocata di Enrique Borsato Papu Ingenua giocata trattenito Borsato sta per arrivare il giallo si continua a giocare Borsato si rialza perde poi il pallone Osni Garzia Emer e quindi Marcellinho occhio al suo sinistro Marcellinho si è la giusta il sinistro murato da Lefreddi dalle molle sta per arrivare il giallo in direzione di Papu ornega Paris non è ma cosa vuoi meno scegliere sai fai 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 Mancano sette minuti effettivi e diciassette secondi, Marcellinio, Papù, davvero Papù non ha mai avuto spazio una sontuosa partita di Del Ferraro. Cerca di liberare nuovamente il sinistro Marcellinio, Lioffreddi la gioca per Borsato, ha molto campo Borsato, sbaglia la marcatura adesso L'Isola che ha diviso male il campo con i suoi uomini a sinistra. Del Ferraro nuovamente su Papù. Di nuovo in anticipo del Ferraro, c'è Angolo. Battita forte dentro per Papù. Del Ferraro di prima per Borsato. Si gira Borsato. Cerca una palla di esterno per Beto. Bravo Ceccio, guarda la piaccia. Emer. Mentasti. Emer. Arribas. Mentasti. Leandrigno, Beto. L'ex Aloha, città di Sestu, per Del Ferraro di sinistro. Basile. Classico intervento coi pugni. Colpo di testa di Borsato. Colpo di testa di Borsato. Morbido il suo tentativo. Col portiere in porta, peraltro. Quindi Basile cerca Papù. Del Ferraro non è in anticipo stavolta. Ci arriva quindi Emer. Murato da Beto. Lutta. Lutta. Emer. Borsato. Tra tenuto di Andrigno si continua a giocare. Borsato. Basile con il piede. Arriva anche un altro giallo. Stavolta l'indirizzo di Emer. 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 Borsate Beto Borsate L'esterno per Leandrigno Stavolta la giocata riesce Leandrigno Borsate Sempre da quella parte Il numero 8 Luca Un po' in ritardo Del Ferrare Beto Del Ferrare Scavino verso Borsate Arribas Imer Arribas Papu Lutza Arribas Imer Lutta Papu Lutta Imer Un paio di deviazioni Angolo Anzi Rimesso dal fondo Leo Freddi Velasquez Non tocca Tocca Imer Velasquez Si conquista Si conquista Angolo Velasquez Mattiazio del Ferravo Contra Manipetto Destro al volo Velasquez Leandrigno Leandrigno Velasquez Angolo Sta per arrivare Il time out Del Fuzz L'Isola Chiamato da Mister Angelini Velasquez Beto Beto Del Ferrare Leo Freddi Gioca per Beto E Meri interviene E Meri interviene Rimessa al laterale Velasquez Velasquez Pul Beto La porta sul mancino Di su alla Belli per Del Ferraro Calcio d'Andolo Bel movimento Di Del Ferraro Bella palla di Beto Velasquez Del Ferraro Stavolta di sinistro Papù Stavolta accelera Del Ferraro Fallo Del Ferraro Giallo Alte per il numero 6 E time out Per l'Isola Sta per riprendere il match 3-10 Al termine Lutta Lascia a Marcellinio Del Ferraro Velasquez E Lutta Si trattendono a vicenda Giallo Per lutta Del Ferraro Del Ferraro Del Ferraro Beto Del Ferraro Di su alla Vasile Marcellin Lutta Marcellinio Emer Marcellinio Emer Papù Marcellinio Marcellinio Sicuro Sicuro Leo Freddi Che lancia Per Beto Velasquez Beto Sul secondo palo Papù A coprire L'arrivo 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 di Asun Garzia Lancio lungo di Papù Non c'è fallo Emerdo Vatti Il portiere Emerdo 2-1 Del futsalisola Tra i proposti Della Lutris A montaggio Negli Orange L'arrivo di Asun Garza 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 Portiere di movimento per l'Olympus, ci tratterà di Federico Di Eugenio. Velasquez, dalle molle, Mentasti, Basile, Arribas, non arriva. Velasquez, Osni Garzia. 1.42 al termine. Di Eugenio, fallo di Marcellino. Velasquez, a destra per Beto, Di Eugenio, Velasquez. Osni Garzia, Di Eugenio, si impegna il pallone, Beto in mezzo, poi il destino da porta di Borsato. Borsato, Osni Garzia, Di Eugenio. Velasquez, Di Eugenio. Numero 7, dà per Di Eugenio, non affonda l'Olympus. Osni Garzia, Velasquez, Beto, spara alto, è il pallone del 2-2. Basile, lancia lungo, Arribas. Borsato, Beto. Esceva dal piede, il pallone per la Snigazzia, Snigazzia, sempre Snigazzia. Il miracolo difensivo di Marcellino. E il pallone è a favore dell'Isola. 50 secondi al termine, Basile. Borsato, Velasquez, Di Eugenio. Ha una possibilità di tiro adesso l'Olympus. Borsato, Di Eugenio. 25 secondi al termine. Borsato, Di Eugenio. Troppo lento l'Olympus. Borsato, Osni Garzia, apertura per Beto. Venti in mezzo, liscia! Di Eugenio. E poi se la trascina fuori, Velasquez. C'è calcio d'angolo però. Venti in mezzo. Velasquez. Borsato. Rimessa laterale per l'Olympus. Velasquez, Beto. Prova a calciare. Velasquez. Pallone che rimane lì. Sta per finire il match. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Borsato Forte dentro, termina qui il mezzo Il fuzzo all'isola vince 2-1 alla cala oggiata Una partita bellissima, rimane saldamente in testa alla plastifica del girone di più di serie a due Grazie